Sì, cominciamo in questo modo. Destruisco! Un po' tardi! Sì, sì, è stato un lungo tempo da fare una di queste interviste. Un po' roste! Enzo, hai svegliato come un pro oggi. Perché hai fatto tutto perfetto. Magari non avevi il peso di Natan, ma hai avuto una buona combina con i tuoi amici. Quindi credo che sia un buon giorno per te. Sì, Natan ha fatto un buon start, si è riuscita, si è riuscita, si è riuscita a Dorison nella terza corner e poi si è riuscita e si è riuscita. Ho scoperto un po' di pace con Natan, ma ho avuto un buon scopo con Arthur. Ho davvero piaciuto, e voglio ringraziare il team e ringraziare tutti per il weekend. Especialmente il mio meccanico, perché aveva un problema con i tuoi amici. Questa settimana si è riuscita per essere il mio meccanico e voglio ringraziare il podium e lo share con lui molto felice. Sei un rookie in categoria e potresti aspettare di essere sul podium già nella seconda round delle Champions europee? Ovviamente, era una sorpresa. Especialmente dopo il pre-final non era il miglior ma è incredibile, è un'atmosfera sul podium e mi piace essere qui e spero di essere qui più. Cosa ha cambiato tra i primi raci? Perché nei primi raci ero molto veloce ma non era così consistente per essere sul podium invece questo weekend come ho detto ero come un pro. non è un pro. E' stato un pro. In le primi raci non sapevo di gestire le tigure e ho fatto alcune errori che potrebbero evitare l'especiale a Francia Corta Ma ora, anche se siamo un po' più lentamente, come René, che si stava iniziando, andavamo in una gara molto maturale, non combattendo troppo, e poi abbiamo preso la scuola, quindi abbiamo avuto una grande scuola nel ultimo lapso, e ho vinto la scuola, finito il P2, e sì, è davvero buono, mi piace davvero. Bravo!